Le nuove piattaforme stanno certamente favorendo la creazione di un'identità europea quantomeno nel riuscire a mettere insieme nello stesso posto e nello stesso momento cittadini di diversi paesi che però discutono su temi affini e che li coinvolgono. Per esempio, c'è anche un paese in cui i media sono un quattro Stato che almeno influenzano politiche e governamentali. e questo tipo di heterogeneità dobbiamo capire, se vogliamo capire, se vogliamo capire il link tra medieplattformi e european identità. E questo è un'ottima domanda, però quando ci sono domande i effetti di media effetti, possiamo vedere con un'occhiere un'occhiere a un'occhiere, che ovviamente i processi, che abbiamo definito come commercializzazione, anche per i piuttori. La nostra prima domanda di ricerca, che poi si scontriva, che si scontriva in tante tracce di analisi e di investigazione, è quanto i media che circolano in Europa, che sono a disposizione dei cittadini europei, li aiutino a sentire citati, che è una domanda tutt'altro che retorica. Se il nazionale continua a essere molto relevante, io credo che continua a essere molto relevante a livello dei media tradizionati, a cui ha fatto una relevancia a livello delle dire maniose delle dire quali le persone passano la maggior parte del tempo mediattico, mediatico, ma può avere, in queste piattaformi, una minoriazione delle identità nazionali di una identità comuni, che può essere europea o non, perché, voltando alla domanda iniziale, la identità che stiamo a formare nelle piattaformi può non essere necessariamente una identità europea, può essere una identità global, per esempio, e, portanto, desse punto di vista, ma una volta, sono necessari studi per tentare a migliori conclusioni, nella certeza, però, di che, è chiaro che ai media tradizionale non sono capace di creare un quadro di media pan-europeo, per esempio, di comunicazione sociale che fosse pan-europeo. Non sappiamo che va a succedere a livello delle piattaformi, sappiamo che stiamo a lavorare con piattaformi online che sono maggioritariamente nord-americani, ma non sappiamo che effetto che questo va a avere nella maniera come gli europei se relazionano entre si, portanto, se c'è una abordazione nazionale o transnacional, dovremmo studiare una volta. La media nazionale, credo, continuerà a essere la più relevante e la più prominente nei loro paesi respecti. Sì, coesistirà con più di media transnazionale e anche più di media pan-europeo. Inoltre, c'è più opportunità per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente, per l'ambiente e per l'ambiente, per l'ambiente di comunicazione e media che non sono ancora iniziare alla tradizionale di organizzazione media. Secondo me, c'è space per la convergenza per l'ambiente pan-europeo. Quando immaginiamo che il nostro progetto iniziò in medio della pandemia Covid-19 e abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito, che le media attività sono molto più limitate sui nazionali e sui nazionali. Ma per l'ambiente europee attività e le measure di supporto, bisogna, ovviamente, di più di più pan-europeo media attività, per l'ambiente per l'ambiente per l'ambiente può essere molto più efficace. Im primo anno del nostro progetto dell'Eumilblatt-Progetto abbiamo con l'ambiente di 1990 fino ad oggi. Ciò che non funziona, quando si guarda, ciò che attivano in questa quota europea in quanto riguarda i video-on-demand-Plattformi, ciò che sono una grande produzione che sono anche europee, ma non europee produzione di altri europei. Ciò che vediamo un'attivamento di un'attività in ihrer eigenen sprache, aus ihrer eigenen kultur, plus dann, ich würde sagen, generische produktionen aus den USA, die so angelegt sind, dass sie alle Menschen aus allen kulturen ansprechen. Europa Projeleri ve Erasmus'u düşündüğümde aslında bu konuda biraz talihli bir insanım çünkü birkaç kez bu projelerde yer alma fırsatı buldum ve bunu deneyimlemiş biri olarak söyleyebilirim ki Avrupalılaşma kimliği için en faydalı şeylerden biri genç zihinlere aslında genç zihinlere bu fikri aşılamak, bu fikri tanıtmak ve ben bu sayede Avrupalılaşma kimliğini küçük bir yaştayken öğrenmiş oldum. Türkiye'de yaşıyor olmama rağmen tabii arada mesafe var, birlikte yer almayan bir ülkede yer alıyorum. Buna rağmen bu projeler sayesinde gerçekten kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Avrupalı projelerin Help us build our common knowledge through collaboration. An Erasmus program is a wonderful program, giving the opportunity to students and researchers to travel and exchange experiences. I can tell this from the Erasmus students coming to our university. However, the need for communication is endless and we still have many barriers to overcome. Using our knowledge and energy in defending the European identity and values is crucial, especially during these terminal times. We need to open the doors, the doors of academia, to a broad range of societal actors. This in practice means that we need to enable the conditions that will allow us to work together and produce knowledge together about, in our case, these pressing issues that Europe is facing, but also work together towards solutions, still in ways that are relevant for society. Also, meine These, es sind nicht die Medien als solche, die eine europäische Kultur schaffen, sondern es sind europäische Themen, europäische Kulturelemente, die Menschen zusammenbringen, die dann den Bedarf nach medialen Inhalten erzeugen und Leute dazu bringen, danach zu suchen und die wahrzunehmen, wo sie denn angeboten werden. Das ist eine europäische Kulturelle. 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 Grazie a tutti